Nuova operazione a tutela dell'ambiente denominata Terra Sporca ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Altavilla Silentina e Borgo Cariglia unitamente a personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos di Salerno nei territori dell'Alto Ebolitano e nei comuni di Altavilla Silentina ed Albanella. I militari hanno sottoposto ad accurato controllo a sorpresa tre aziende zootecniche dedicate all'allevamento di bestiame Bovino, Bufalino e Suinicolo al fine di verificare la corretta gestione degli effluenti zootecnici nonché la regolarità di impianti e manufatti. Nella prima azienda diverse violazioni in materia urbanistica ed edilizia hanno fatto scattare il sequestro di varie strutture dedicate ad una illecita gestione dei reflui prodotti dal bestiame ed un terreno di circa 8.000 metri quadri dove oltre all'etame erano stati smaltiti impropriamente rifiuti di varia natura e scarti edilizi stimati in decine di tonnellate. Ad Altavilla invece il titolare di un'altra azienda è stato deferito per i ripetuti illeciti smaltimenti che di fatto hanno finito col realizzare su di un fondo di sua proprietà di oltre un ettaro un enorme deposito incontrollato di effluenti che a seguito di un vistoso ruscellamento causavano l'inquinamento del suolo e dei canali presenti nella zona. L'ultimo controllo interessava un allevamento Bufalino di Albanella all'interno del quale è stato sequestrato un enorme deposito di silo mais con base in cemento ma senza contenimento e reggimentazione del percolato che finiva coi terreni sottostanti ed i canali di scolo che confluiscono nel fiume Calure.